Io ringrazio il Presidente Draghi per le sue parole e mi permetto di mandargli un messaggio grazie anche perché i cittadini hanno subito recepito, noi abbiamo avuto da dopo un messaggio un impegnato di collegazioni, il che significa che sono parole forti ma che hanno aiutato a far capire le persone e quanto sia importante vaccinarsi. Io ripeto un concetto semplice che dico da tempo. Il teorema per cui si deve essere liberi di non vaccinarsi o liberi di non seguire le regole è totalmente falso, la verità è un'altra, noi torneremo liberi e libere se ci vacciniamo e se con responsabilità seguiamo le regole che ci siamo dati, questa è la verità, non altre, quindi grazie al Presidente Draghi che ha espresso l'opinione che mi sento di sottoscrivere in te. Grazie a tutti.